ecco qua quando si comincia come sta andando? come è la sacra del pesce buono è benissimo escono mica 6-7 minuti di pazienza va bene, vediamo se ci danno qualcosa più giù ecco qua adesso rosario i mulini sono trasformati da questa festa autunnale per tutto tutto Positano è diventato un appuntamento visto abbiamo pure i palloncini un busto di porca ecco e abbiamo anche il sindaco sindaco che ci dici di questa festa popolare? sicuramente un'ottima festa una festa per i positanesi come giustamente ha detto Don Giulio oggi partecipazione di tutte le strutture di tutto il paese è stata veramente una bellissima cosa poi anche con un tempo splendido grazie al sindaco Positano è sempre estate oggi la gente stava a mare e qui c'è allegria questo è lo stand del vino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti